Quando mia madre era arrabbiata con me, cosa che succedeva spesso, diceva il diavolo ci ha condotto alla culla sbagliata. L'idea del diavolo che nel 1960 si prendeva una vacanza dalla guerra fredda e dal maccartismo per fare un salto a Manchester. Scopo della visita a imbrogliare Mrs. Winterson sembrava uscita da un copione teatrale. Grazie. 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 Grazie.